A un certo punto della nostra ricerca ci siamo chiesti perché la filosofia delle guide, che a noi ha dato tanta serenità, non deve essere conosciuta da un numero molto più grande di persone? Così sono nate le pillole di evolvenza su YouTube. A un certo punto della nostra ricerca ci siamo chiesti perché la filosofia delle guide, che a noi ha dato tanta serenità, non deve essere conosciuta da un numero molto più grande di persone? Così sono nate le pillole di evolvenza su YouTube. A un certo punto della nostra ricerca ci siamo chiesti perché la filosofia delle guide, che a noi ha dato tanta serenità, non deve essere conosciuta da un numero molto più grande di persone? Così sono nate le pillole di evolvenza su YouTube.